allora eccoci qui registrati quindi sentitevi liberi io sono laura paroline sono la presidente dell'ordine sono molto contenta di ospitarvi qui oggi pomeriggio credo che questa iniziativa e poi dopo lascerò la parola anche per la presentazione ai nostri relatori sia molto importante per parlare nel corso della salute mentale che anche come dire sotto il patrocino del comune di milano che vede tantissime iniziative noi siamo molto felici di aprire la nostra casa della psicologia è proprio un minuto vi rubo per dirvi che cos'è è lo spazio che l'ordine degli psicologi ha voluto per favorire iniziative eventi confronti dibattiti ma anche un'apertura verso il pubblico non nella mia comunità professionale quindi ragazzi ragazzi come voi oggi in altre occasioni altri professionisti dove l'idea è quella di favorire proprio una promozione e una divulgazione io ringrazio per questa partecipazione ringrazio i colleghi che sono psicologi anche gli altri che intervengono di altre professioni in dialogo perché credo che attraverso l'iniziativa più pari meno pari entriamo un po nella possibilità di anche avvicinarci con delle azioni concrete ai ragazzi partendo dai bisogni dei ragazzi ascoltando come dire quelle che sono le loro come dire indicazioni credo che dalla pandemia in avanti tutte le ricerche nazionali e internazionali hanno dimostrato un crescente disagio nella fascia dei giovani adulti così come degli adolescenti anche se volendo vedere il bicchiere mezzoglino potremmo dirci che forse è cresciuta semplicemente anche un livello di consapevolezza tra i ragazzi che permette loro di esprimere di più ciò che le generazioni precedenti a volte trattenevano tanti motivi anche culturali direi quindi io sono molto contenta e ringrazio anche il comune per avere coinvolto l'ordine in questa iniziativa lascio la parola in modo che non rubiamo troppo tempo perché poi ragazzi sono qua per ascoltare voi e vi ringrazio veramente per essere venuti qui in presenza oggi in questa giornata che rappresenta proprio la giornata della salute mondiale sul la giornata la salute mentale una giornata mondiale ciò posso fare oggi è stata su un tram ho fatto 12 eventi la salute mentale di chi si occupa di salute mentale nella nella settimana viene messa un po dura prova quindi spero che questo momento sia per voi un momento di confronto e di dialogo vivace grazie grazie alla presidente parolin grazie all'ordine degli psicologi della lombardia per averci ospitato e per averci sostenuto pochissime parole solo per ricordarvi che questo è il primo di una serie di eventi che il progetto più pari meno pare ha organizzato nella settimana della salute mentale i prossimi eventi partiranno domani a open casello che è la nuova casa delle politiche giovanili del comune di milano eh abbiamo un calendario molto ricco domani c'è un talk organizzato eh dalle ragazze dello psicologo al parco sul tema le domande che non ha il coraggio di fare allo psicologo sabato eh continuiamo con un workshop dal titolo psicofobia portami via poi abbiamo anche una seduta di arte terapia organizzata da Federica Raioli e per finire sabato un work caffè organizzato dalla cooperativa coesa eh sul tema dell'amore del consenso e domenica grande chiusura eh faremo il prototipo del gruppo di peer support poi vi spiegheremo in brevemente che cos'è e è un piccolo showcase sul tema organizzato dal gruppo giovanile di periferia. Questo è tutto il calendario che abbiamo organizzato eh per eh lanciare questo nuovo progetto più pari meno pare eh un'idea della direzione progetto grazie mille della direzione progetto promozione giovanile transizione scuola lavoro eh c'è qui la direttrice Giulia Tosoni che chiamo per salutarvi e per parlarvi un po' del progetto. Grazie. Grazie mille ehm per dire due cose in più sul progetto che credo sia proprio bello presentare oggi presentare qui in questo luogo eh perché la sua particolarità è che è nato da un gruppo di persone giovani alcune dentro l'istituzione il comune di Milano la nostra direzione di progetto e in parte fuori eh ragazzi e ragazze che fanno parte di gruppi collettivi che sono attivi sul tema della salute mentale e del benessere. Ed è stato questo incontro molto bello che ha generato l'idea di dare alla città per la prima volta in via sperimentale eh dei luoghi, dei luoghi belli, dei luoghi non caratterizzati per la medicalizzazione o o l'assistenza, dei luoghi in cui normalmente andiamo per stare insieme e fare delle cose belle che sono Mosso, Base e la biblioteca di affori ehm in cui eh creare uno spazio fra pari per confrontarsi, parlare di come si sta, prendersi cura eh in un modo appunto molto molto informale e molto tra persone con un'età simile e con delle esperienze magari invece anche molto diverse da da portare a confronto. Eh colgo l'occasione per dire che alla alla nostra chiamata hanno già risposto ottanta candidati per fare da facilitatori di questi gruppi informali che prenderanno molto presto il via ehm e 70 oltre 70 giovani hanno già risposto per partecipare a questi tre gruppi. Sono numeri importanti che speriamo di gestire al meglio, di essere all'altezza della sfida che che abbiamo messo in campo per cui apprettatevi, ci sono gli ultimi posti disponibili per partecipare ai gruppi. Con l'occasione ringrazio i nostri partner progetto Itaca Coesa, psicologhi al parco, i collettivi di ragazzi Paranoia Festival Attraverso Attraverso fra gli altri che anche in questi giorni stanno facendo con noi tantissime cose molto belle e ringrazio tantissimo i sostenitori del progetto, bando 57, fondazione di comunità e ordine degli psicologi di Lombardia senza cui ovviamente niente di tutto questo sarebbe stato possibile e grazie anche a voi relatori e a Amy che è qui con noi stasera con cui tra l'altro stiamo condividendo un po' di spazi in città e un po' di percorsi e credo sia una bella occasione per così dirci anche delle cose su come continuare insieme a fare sensibilizzazione e a parlare di salute mentale in modo fisico e anche social nel modo migliore possibile, più utile possibile, per cui grazie davvero a tutti. Vorrei un attimo chiamare qui Francesco Scarpat, project manager dell'area sociale di Fondazione Comunità Milano che per primi ovviamente ci ha accolto il progetto, l'ha capito e l'ha fortemente sostenuto e poi lasciamo pure Jay e P, Gianluca e Pietro condurre questo interessantissimo talk. Grazie mille, grazie dell'invito, proprio solo due parole anche magari per chi non conosce la Fondazione di Comunità Milano. Noi siamo una fondazione erogativa quindi sosteniamo progetti che ci arrivano tramite bando, nasciamo da Fondazione Cariplo e la maggior parte dei nostri fondi viene da Fondazione Cariplo, però appunto siamo una fondazione di comunità, cioè proviamo proprio a essere nei territori, a essere presenti e teniamo molto ai nostri progetti. Questo progetto per noi era subito, è stato subito importante perché non è frequente che il comune sia capofila e ha voluto fortemente essere capofila e questo per noi è stato prezioso come la rete dei partner che abbiamo già elencato, Coesa, Progetto Itica, Ordene degli Psicologi. Ci è sembrato un progetto importante anche perché come Fondazione di Comunità abbiamo tante progettualità rivolte ai giovani, quindi magari vi consiglio di andare a vedere sul nostro sito, sulle nostre pagine internet. Vi nomino solo delle cose molto velocemente poi vedrete voi. Venerdì prossimo il 18 saremo a base Milano con il concorso Figurarsi alla fase finale che è un contest creativo. Abbiamo un progetto che si chiama Youth Band proprio per promuovere il protagonismo giovanile. Affidiamo 50 mila euro a giovani che creano loro un bando e poi selezionano loro progetti di altri giovani del territorio o nel sud-est o nel sud-ovest di Milano in questo momento. Quindi se c'è qualcuno di questi comuni, Cesano Boscone, Corsico, Pieve Emanuele, San Donato, San Giuliano, dateci un occhio perché può essere una bella occasione per fare un po' il nostro lavoro per una breve esperienza formati su questo. Però oggi siamo qui per un altro motivo. Questo progetto per noi da subito è sembrato molto di qualità anche proprio per superare un po' di barriere, cominciare a parlare sempre di più di salute mentale senza stigma e nella maniera più serena possibile. Questa è una sensibilità che ha sempre avuto anche Cariplo con il bando attentamente. Questo era un progetto un po' diverso perché si rivolge a quelli che vengono definiti giovani adulti, poi sentirsi adulto insomma ognuno alla sua percezione. Però io mi fermo qui perché siamo qui anche noi per imparare e ascoltare e buon lavoro e grazie a tutti. Va bene, allora iniziamo. Buonasera a tutti. Noi siamo contenti perché è un momento per noi di intimità, cioè ci capita raramente di parlare con gruppi ristretti di persone perché lavoriamo sui social quindi abbiamo a che fare quotidianamente con la grande massa quindi è un rapporto diverso quello che avremo stasera. La serata si chiama Notte degli Spettri perché si chiama così non è né perché siamo vicini ad Halloween né perché parleremo di malattie incombenti e terribili. Chi ci segue sui social sa che noi ci occupiamo soprattutto di salute più che di malattia quindi anche stasera cercheremo di portare più che altro un'attenzione alla salute mentale cercando di stare meglio nel quotidiano. Vi daremo dei consigli utili da applicare tutti i giorni e vi daremo dei consigli per non ammalarvi in futuro. Quindi sarà una serata leggera, ci possiamo rilassare ed iniziare. Direi di fare un giro di presentazioni con i nostri super ospiti di stasera che sono dei grandissimi professionisti. Iniziamo da Angelo Bertani. Buonasera, psichiatra, sono responsabile di un ambulatorio che si chiama Centro Giovani Ponti della SST Santi Paolo e Carlo, quindi zona sud di Milano, rivolto a ragazzi fra i 16 e 25 anni con un libero accesso. Mi hanno passato il microfono, quindi... Scusa, ho concentrato su quello che stavo dicendo. Scusa, giustissimo. Io sono Chiara Maiuri invece, sono una psicologa e psicoterapeuta e lavoro principalmente nel privato, ho i miei studi su Milano, mi occupo principalmente di adulti, giovani adulti, qualsiasi cosa voglia dire, ma anche di adolescenti e poi sono consulente per il Tribunale di Milano del Nucleo Tutela Donne Minori. Piacere, invece io sono Federico Lupo Trevisan, anche io psicologo, psicoterapeuta e lavoro principalmente in Croce Rossa, con giovani adulti in stato di grave marginalità, nella pratica privata sempre con adulti e giovani e anche in una scuola di Milano più sull'adolescenza, quindi una scuola superiore. Ciao a tutti, Pietro Pettenghi, fisioterapista, c'è altrone, capita, ma qua intervistatore, gli dice che daremo risposte ma principalmente faremo domande. Questo è quello che va peggio, dice, se questo va un po' meglio, questo va decisamente meglio. Quindi di risposte ne daremo poche, ma di domande ne faremo tante, questo è il nostro ruolo, mi auguro, perché le risposte ne ho sicuramente meno che voi. Va bene, prima di iniziare noi siamo sempre curiosi di conoscere con chi parliamo, innanzitutto come va la salute mentale oggi? Fateci un numero. Avevamo deciso un numero da un dieci ma era difficile, con una mano, quindi adesso buttate su una mano, da uno a cinque, uno molto male, cinque molto bene. Se volete chiudere gli occhi, è obbligatorio. Potete aggiungere anche lo stress del momento per alzare. Sì, sì, poi lo facciamo anche noi. Ma io vedo dei cinque che infatti, advoca, lo farò anch'io, giusto? Dai, c'è margine di miglioramento. E oggi sto abbastanza bene. Benissimo, ho visto dei cinque. Uno era bene o male, non mi ricordo più. Ah, questo l'abbiamo detto. Era male. Ah, vabbè, no. Non ho visto tanti uno. Sì, è stato abbastanza bene, ottimo. Vediamo, qua di fronte ci sono un po' di professionisti. professionisti, in fondo, cosa fate? Quella ragazza che mi guarda così. Ingegnere, perfetto, benvenuta. Hai cambiato idea. Il ragazzo più in fondo di tutti, con gli occhiali, cosa fai nella vita? Disoccupato. Ottimo. Cosa ti piacerebbe fare? Ok, interessante. Ora dobbiamo assaggiare la conoscenza. Esatto. Non parleremo poco di farmaci stasera, perché teoricamente è meglio non arrivare a prenderli se si promuove la salute e previene. Va bene, vi raccontiamo tre storie stasera. La storia dell'amico ansioso, la storia dell'amico stacanovista e la storia dell'amico single. Quindi, vando all'indugi, iniziamo dalla prima. Qui ce la racconti tutto. Sì, volevamo magari prima fare un po' un quesito per sapere la conoscenza del nostro pubblico, sapere se qualcuno ci sa dire differenza tra psicologo e psichiatra, per esempio. Ma siamo già in disaccordo sul copione. Nella mia lista era prima. Io avevo deciso che non lo volevo più dire. Peccato. C'è qualcuno che se la senti... C'è un'altra domanda per voi. Qualcuno che non è del campo, ha voglia di dirmi la differenza tra psicologo e psichiatra. Non ci sono risposte sbagliate. Io vado ad intervistarli. Prego, prego, porti il gelato. Già che sei venuto di bianco. L'ingegnere, sì, vai. Allora, no, prima facciamo differenza tra psicologo e psichiatra. L'hai costruito tu il microfono, nella tua branca. Allora, so che sono due cose diverse. E questa è un'ottima partenza. Lo psichiatra è un medico, lo psicologo no. Qua mi fermo, in realtà. E intanto non ci sono errori. Non ci sono errori, perfetto. La differenza tra psicologo e psicoterapeuta. No, anzi, facciamo la differenza tra psicologo e psicoterapeuta, che è ancora più difficile. Vai. Allora, lo psicoterapeuta fa una scuola in più, che è la scuola di psicoterapia. Psicologia solamente, insomma, i cinque anni di università. Però non so bene quali sono poi le differenze. Pensavamo di incalzarli, e invece questa parte è già finita. Eri preparatissima, in realtà. Esatto. La differenza principale è che c'è una specializzazione in psicoterapia di quattro anni, e può essere sia uno psicologo che uno psichiatra, lo psicoterapeuta. La differenza tra lo psicologo-psicoterapeuta e lo psichiatra-psicoterapeuta è che lo psichiatra può prescrivere anche il farmaco, perché è medico. Anche il medico può essere psicoterapeuta. Bravissimo. Non l'abbiamo messo in questa, non ce l'avevamo in rappresentanza oggi. Va bene. Direi che potete leggere qualcosa su questa differenziazione, siamo già abbastanza soddisfatti. E' naturale, ma io so. Allora, avevamo pensato di iniziare con una storia di immagini, e chiedevamo a tutti voi di immaginare quel vostro amico, che sicuramente nel vostro gruppo esiste, che viene tendenzialmente definito l'ansioso, o quello che spesso va nel panico nei momenti di difficoltà. Io ieri, mentre leggevo questo script, pensavo che forse sono io nel mio gruppo di amici, però vabbè, per fortuna non devo rispondere io. E volevamo provare a dare dei consigli per capire come intervenire in queste situazioni, quali sono delle azioni facilitanti. e potremmo o partire dal pubblico o partire direttamente dai nostri professionisti. Questo me lo dice il buon Jay. Io partirei con la prima domanda per Chiara. Andiamo dai professionisti direttamente. Allora, se dovessimo spiegare cos'è l'ansia, cosa dovremmo dire? È sempre un problema o può essere anche un vantaggio? Quello suona meglio. Grazie. Allora, sono contenta di apro così questo. Via. Innanzitutto, l'ansia banalmente è uno stato psichico ed emotivo, caratterizzato da una sensazione che può essere quella di una forte preoccupazione, della paura di qualcosa, che però si differenzia dalla paura perché, diciamo che fondamentalmente la paura è paura di qualcosa di tangibile, cioè di un pericolo reale. Quindi torno a casa la sera e sento un rumore, ho paura. Poi può essere mischiato, nel senso che comunque l'ansia, come tutti gli altri stati psichici, non sono mai puri e semplici, sono sempre insieme ad altre cose. Noi siamo abituati a pensare all'ansia come qualcosa di estremamente negativo, appunto, dicevamo l'amico ansioso, tra l'altro mi viene da dire, se non sai qual è l'amico ansioso, vuol dire che sei tu. È come a poker se non capisci che è l'ansia. In realtà l'ansia ha una funzione anche positiva, chiaramente dipende dal livello di ansia che proviamo, dalla gestione dell'ansia, cioè proviamo a pensare, non so se abbiamo qualche studente, ma comunque è l'esempio più facile che mi viene in mente, la sera prima di un esame o di un colloquio di lavoro molto importante, abbiamo una sensazione che è proprio quella dell'ansia, che però non è necessariamente negativa, perché poi è quella cosa che magari ci fa ripassare un'oretta in più prima di andare a letto, rileggere delle cose, quindi fondamentalmente l'ansia ci spinge ad attivare delle risorse, che altrimenti senza l'ansia magari non riusciremo, non avremo lo stimolo di portare avanti. Chiaramente questo però vale, e questa è l'ansia sana, diciamo, se non diventa invalidante. Quindi è chiaro che parliamo dell'ansia in senso positivo finché non è invalidante. Nel momento in cui questo senso di ansia non mi permette di fare le cose, mi fa frizzare, cioè non mi fa più ragionare, mi fa evitare le situazioni, chiaramente non stiamo più parlando di un'ansia che ha un aspetto positivo. Però ci tenevo a dirlo perché secondo me va anche un po' sottolineato che non sempre è una cosa negativa. È chiaro che poi l'ansia per molte persone è estremamente invalidante e quindi può essere legata a situazioni specifiche, tendenzialmente a situazioni legate al futuro, perché poi siamo delle generazioni molto abituate a preoccuparci di quello che verrà dopo. Questo è anche uno dei motivi per cui l'ansia è un po' la malattia di questo secolo. Può essere però invece appunto legato a situazioni specifiche, quando si trasforma poi nelle fobie, piuttosto che essere quella che è l'ansia generalizzata, cioè un'ansia contante, perenne, che si avverte ma del quale non si capisce la reale motivazione. Quindi quando poi l'ansia si avverte molto spesso e magari appunto in relazione a non qualcosa di specifico, può essere che sia proprio un vero e proprio disturbo d'ansia. Quindi mi fermerei qui. Fantastico. Adesso poi capiamo come gestirci con i microfoni perché effettivamente... Sto cercando di capire che tutto fa quel suono. Rianimiamo quello che magari adesso sta tranquillo. L'ansia può essere anche qualcosa di positivo, abbiamo visto, è qualcosa che tutti abbiamo in diversi contesti. E io chiederei adesso ad Angelo, che lui invece di ansia che diventa eccessiva, ne vede quotidianamente. Uno, se ci dice quanto secondo lui pesa la genetica, cioè chi siamo internamente nel portarci può avere un'ansia patologica, e quali sono i possibili fattori di rischio, di modo tale da cercare di evitarli. Allora, sulle cause dei disturbi d'ansia, se i disturbi parliamo quindi non dell'ansia fisiologica, non se ne conoscono le cause, questo vale per tutti i disturbi psichiatrici, e quindi non so rispondere rispetto a quali siano le cause, se no avrà il Nobel in mano, e a me non ce l'ho. Però c'è sicuramente l'aspetto della familiarità, che è un dato noto, questo vale per la maggior parte dei disturbi psichici, il che non vuol dire necessariamente genetica, nel senso che a tuttora non si è rilevato il gene del panico o della depressione, ma in alcune famiglie certi disturbi ricorrono più frequentemente. Quindi se siano fattori epigenetici legati ad eventi traumatici, ci sono degli studi sul fatto che un evento traumatico capitato al bisnonno ha degli effetti su tutta la progenie, o fattori legati a tipo di alimentazione, fattori quindi esterni all'aspetto genetico in senso stretto, ma che modificano poi l'assetto genetico attraverso appunto dei processi successivi, oppure ci siano dei geni multifattoriali, gli aspetti genetici. Sicuramente c'è la familiarità. Sui fattori che scatenano l'ansia, allora, un elemento che può esserci, è grande classico nella raccolta dell'anamnesi, quando uno smette di farsi le canne, le canne ad esempio attivano, possono far venire gli attacchi di panico, il primo attacco di panico delle volte succede, quindi l'introduzione di alcune cose, che possono essere delle sostanze, e non ce l'ho con le canne in particolare, però, diciamo, delle sostanze, o diciamo anche altre cose che introduciamo, possono favorire il primo episodio. Altri aspetti che possono avvenire sono eventi traumatici, o esperienze che possono slatentizzare una vulnerabilità. Direi che sono queste quelle che mi vengono in mente, è una cosa che non so se è vera, però, diciamo, un po' il rispetto di noi stessi, e quindi il cercare di cogliere chi siamo, cosa vogliamo, e cercare di rispettare questa cosa, e quindi abbassare il livello di stress nella vita quotidiana, può aiutare a non sviluppare dei disturbi, compresi disturbi d'ansia. Questo lo penso, ma non so se sia vero. Questo, Jay, era per te? No, no, credimi, me l'ha detto prima. Non ci sono tanti studi scientifici su questo. Allora, abbiamo visto che i fattori di rischio sono difficili da individuare, però abbiamo imparato che ci sono invece dei consigli che nella vita quotidiana probabilmente possono aiutare chi soffre di un'ansia non invalidante, o anche di un'ansia invalidante. Federico, ci puoi dire qualcosa? Qualche consiglio? Proviamo. Ecco. O anche prima di arrivarci all'ansia, nel senso che diciamo che noi siamo già in una situazione, noi che abitiamo a Milano, siamo riconosciuti per abitare in uno spazio ansiogeno, culturale, locale, anche fisico. Partirei proprio dal pezzettino della risposta che ha dato Angelo, cioè nel senso di rispettarci, di capirci un pochino di più. Quindi anche la considerazione di come siamo fatti, l'aspetto quindi introspettivo, inteso come non classicamente, no, psicoanalitico, quindi, ma è sufficiente anche rallentare talvolta in uno spazio, ripeto, culturale che è molto performante, sia per le professioni in atto, qualsiasi essa sia, perché le persone che parlano con noi, quando spesso una, come dire, uno script che viene riportato è, ma cavolo, sembra che stiamo salvando vite umane, in fondo stiamo solo facendo, non lo so, finendo una cartella, finendo un compito di lavoro, no? Quindi è come se tutto, no, richiedesse effettivamente una performance, una velocità, che poi per forza si riflette sull'aspetto anche nostro fisico. Infatti, come psicologi, psicologhe, psicoterapeuti, si può pensare che non ci occupiamo della mente, della parte emotiva, ed è vero, però a me piace anche pensare che ci occupiamo del corpo, no? Del corpo non medicalizzato, di un corpo che potrebbe stare bene, quindi come sto io col mio corpo, come sto nel mio corpo, mi piaccio come sono, mi trovo bene fisicamente, la mattina mi dedico un tempo per curarmi, o la sera, prima di andare a letto, quante ore dormo la notte? È sufficiente il modello new yorkese, della città che non si spegne mai, quello milanese un po', talvolta ci va vicino, soprattutto per giovani adulti, ma anche meno giovani, dedico abbastanza tempo, quindi a riposo, faccio delle attività, la dico grossa, faccio delle attività noiose, tipo mi metto a leggere per mezz'ora, non ho niente da fare, mi metto a leggere, oppure sono sollecitato in attività che sono interessanti, lo scrolling, guardare diversi video, lo facciamo per forza, spesso per esempio ci viene sconsigliato tra la luce blu e l'attivazione di guardare prima di andare a letto, ma vorrei che alzassi la mano chi non lo fa prima di andare a letto, quantomeno di guardare Netflix o Disney Plus prima di andare a dormire. Io cerco di compensare leggendo il Kindle, che va bene, è retroilluminato, però insomma fa scivolare nel sonno. Quindi credo che questi aspetti del fermarsi un po', e dall'altra parte un po' anche di organizzare un'agenda che comprenda, anche perché adesso dobbiamo ragionare con Google Calendar, Google Calendar, io incontro poche persone che hanno l'agenda cartacea, ne ho molta ammirazione, però che ci sia spazio, a prescindere dallo strumento utilizzato, anche che ci siano dei bei buchi vuoti, è molto bello, secondo me l'ansia si previene quando ci sono dei bei buchi vuoti. Quindi secondo me penso che da un punto di vista della cultura generale mi fermerei qua. Rallentare un po' nei limiti del possibile è sicuramente un ottimo consiglio. Io uso Google Calendar e Pietro la... Io ho l'agenda cartacea e in più non me la porto dietro. Questo è il mio esercizio di memoria quotidiana. La risposta classica di Pietro è sono fuori, non te lo posso dire adesso, due giorni dopo torno a casa perché in tutto ciò poi... Scusa, aggiungo una cosa che quello che dicevi tu perché c'era un professore di musica che conoscevo che era concertista, professore sia di tromba che di canto e dirigeva cori e noi dicevamo ma non ti appunti non so l'appuntamento di qualcosa e lui diceva no, perché io non ho bisogno dell'agenda perché se mi dimentico vuol dire che è troppo, vuol dire che quella roba non la devo fare, quindi finché riesco a ricordarmi dei miei appuntamenti bene, altrimenti pazienza. Questo non è il mio caso, agli appuntamenti a cui non sono andato scusatemi. Ha fatto un solo concerto in tutta la sua vita, però bellissimo, è rimasta una storia. Passiamo a un'altra situazione, adesso io vi descrivo un evento che può accadere ad alcune persone nella vita e qualcuno prova ad indovinare di cosa stiamo parlando. Allora, sono in metro, è l'ora di punta abbastanza affollata e improvvisamente mi manca il fiato, il mio cuore inizia a battere sempre più velocemente, mi estraneo un pochettino dalla realtà e mi viene un grosso senso di morte imminente, sto veramente veramente male. Cosa sta succedendo? Ecco, sì, un attacco di panico. Ne parliamo un po' con i nostri esperti. Intanto già lo sappiamo riconoscere. Intanto lo sappiamo riconoscere. Almeno una sa riconoscerlo. No, lo sapevano in tanti. Come gestirlo? Iniziamo, io farei dire una frase a testa da non dire a una persona che ha un attacco di panico. Queste sono cose molto utili da sapere perché può capitare tutti i giorni. Cose da non dire mi verrebbe da dire che è quella. Reagisci, smettila, non esagerare. Io spero di non accavallarmi con i colleghi stai calmo. Ecco, assolutamente da non dire stai calmo, non succede niente perché la persona che ha un attacco di panico non riesce a realizzarlo anzi. Sì, o anche dire non ti preoccupare, parlami, dimmi qualche cosa, che cos'hai, che cos'hai e posso toccare, toccare, cominciare a dire siamo qua, non ti preoccupare, soprattutto senza il permesso alla persona. Questa è un'invasione di spazio da non fare mai in generale. Pietro mi perdonerai, però se Pietro avesse un attacco di panico è vietatissimo. Quindi tutto ciò che prevede una sollecitazione dell'interazione e dell'azione sono vietati. Ok, queste sono le cose da non fare, le frasi da non dire. rilancio il giro di qua, adesso c'è una frase invece o comunque un'azione che si può intraprendere per invece facilitare la diminuzione anche solo del sintomo immediato. Una frase che potrei dire a Pietro che all'attacco di panico potrebbe essere io sono qua, prendiamoci il nostro tempo, ricordiamoci che questa cosa passa, sono qua con te. metto la mano così se voglio, se mi sento abbastanza in confidenza metto la mano e dico se vuoi mi prendi la mano se vuoi no, se voglia camminiamo un po', se no stiamo qua, respiriamo, però mentre gli dico respiriamo lo faccio anch'io, mi metto lì e dico siamo qua e ok, quindi sto con lui, faccio sentire che io sono con lui da presenza ma non gli chiedo niente. Ma intanto mi viene da dire che qualsiasi cosa vada detta va detta con molta molta tranquillità, con un tono di voce il più possibile pacato che è quello che stiamo usando anche noi per farvi provare come dovrebbe essere. In realtà quando qualcuno ha un attacco di panico non ci sono troppe parole da dire perché anzi solitamente possono infastidire però insomma possiamo per esempio provare a ricordare alla persona dove si trova e con chi è perché chiaramente chi è un attacco di panico molto spesso perde non capisce più dove si trova con chi è quindi banalmente anche ti trovi in metropolitana siamo scesi a questa fermata io sono e mi presento se è una persona che non conosco o se è un amico può aiutare perlomeno a far sì che la persona ritrovi per un senso di presenza nel qui ed ora condivido quello che hanno detto a me è capitato di intervenire su un attacco di panico in spiaggia quindi in varie situazioni professionali e non e credo che l'aspetto poi dipende moltissimo dalle persone perché ci sono persone che non vogliono sentire parlare quindi modularsi un po' in base anche alla persona che uno è vicino è chiaro che se è un amico è più semplice perché conosce la persona se è un estraneo è un po' più complesso ma spesso lo stargli vicino per assicurarlo sul fatto che di fatto l'attacco di panico non comporta lo svenire il morire l'impazzire non hanno a che fare con l'attacco di panico è chiaro che bisogna essere sicuri che ha quello e non altro e poi come dire quello che dicevano loro sul essere attenti al monitoraggio e all'osservazione spesso l'attacco di panico così come viene passa non può rimanere poi ci sono queste cose sulla respirazione che funzionano un po' perché abbassando l'ossigenazione quindi rispetto all'iperventilazione che aumenta i sintomi se uno rallenta il respiro le sensazioni diminuiscono e un po' a distrae perché uno si concentra su quello aiuta a spostare l'attenzione su altro quindi diciamo che avvenendo già una reazione l'aiuto maggiore è togliere non aggiungere altro ma facilitare a rimuovere dalla situazione se la persona ha già avuto un attacco di panico può essere utile chiedergli se conosce qualcosa che sa aiutarlo adesso vedere in pronto soccorso in generale la fonte maggiore è chiaramente chi sta male e quindi se una persona ha già vissuto un'esperienza e sa che una cosa l'aiuta ha senso provare a riprodurla e quindi fidarsi un po' di quello che uno dice nel senso che sicuramente chi conosce meglio è la persona stessa poi l'aiuto esterno può aiutare a recuperare però sì è importante da questo punto di vista chiedere domanda conseguenziale un attacco di panico fa un disturbo d'ansia da panico la risposta è no questa la sapevo anch'io però Angelo ho capito che non devo più fare domande retoriche le dico diretta adesso che tanto lo so anch'io no un singolo attacco non fa la malattia da distrubo da attacco di panico questo è da tenere presente perché non vuol dire che se ci succede una volta siamo spacciati ecco va bene la domanda per Chiara sulle tecniche ma sono già uscite in ordine sparso qualcosa da aggiungere direi che principalmente sono uscite in ordine sparso però quello che mi viene da dire da aggiungere alle cose che abbiamo già detto è una delle prime cose da fare quando qualcuno ha un attacco di panico è allontanarsi non tutti ovviamente però insomma se io mi prendo la responsabilità di gestire l'attacco di panico della persona dell'amico allontanare gli altri perché non c'è niente che fa peggio di avere tante persone lì cosa succede cosa va beh ma tutto bene no quindi prendersi la responsabilità di allontanare un pochino le persone questo è abbastanza fondamentale per il resto appunto se è possibile degli esercizi di respirazione come camminare se la persona è in grado perché poi gli attacchi di panico possono essere molto diversi fra loro quindi noi facciamo degli esempi per esempio una cosa che mi è capitato di trovare molto utile con dei pazienti è bere dei sorsi d'acqua da una bottiglia però non da un bicchiere perché aiuta a ristabilire un po' anche la respirazione c'è chi trova utile guardare sull'orologio far vedere il tempo che passa perché spiegando appunto che l'attacco di panico è sì molto pesante ma come dice una collega è come un temporale cioè arriva è tremendo ma la cosa certa è che passa in ultimo aggiungo che tutto ciò vale bisogna essere certi che sia un attacco di panico quindi quando si ha un dubbio chiamare i soccorsi comunque è sempre la cosa migliore perché comunque non per forza siamo tutti professionisti e anche noi professionisti a volte possiamo non riconoscere perciò questo ci tengo sempre a dirlo ecco allora già che hai nominato il tempo mi sai dire all'incirca quanto dura un attacco di panico diciamo che non dura mai più di un quarto d'ora però può durare anche molto meno può durare anche solo qualche minuto il punto è che chi lo sta provando ha la percezione che duri da secoli quindi però diciamo che più di un quarto d'ora non dura mai no 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 certo certo era per dire appunto però che chi lo sta vivendo non si rende conto che il tempo è questo e che consigli possiamo dare per una differenziazione banalmente cioè quali sono dei fattori che vi fanno dire ho un dubbio che possa non essere solo questo nel senso che un conto se uno ha una storia di attacchi di panico e quindi uno può in altre situazioni se è il primo episodio tendenzialmente conviene anche valutare le parti fisiche poi è vero che se uno ha 18 anni è poco facile che sia un'altra condizione l'attacco di panico è molto più comune milioni di persone in Italia ce le hanno e magari un'altra condizione no però spesso serve anche fare la valutazione medica di valutazione elettrocardiogramma non lo so altri esami quindi valutare anche di chiamare un'ambulanza in certi casi certo è una buona idea sì 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 quindi l'attacco di panico è finito? insomma c'è ancora un'ultimissima cosa interessante era esattamente questo forse il punto noi li finiamo sempre sappiatelo facciamo finta 15 ne sono passati 12 minuti da quando è iniziato l'argomento troppo abbiamo ancora 3 no poteva essere interessante perché magari molti non non lo sanno fare un esempio di come fareste respirare una persona che ha un attacco di panico è la prima volta che gli succede quindi non sa neanche lei che cosa fare esattamente come lo faccio respirare e come lo guido tendo a contare espirio espirio mille uno mille due stessa cosa contando da mille uno a mille sei in su e in giù questo questo è quello che devo fare rispetto al respirare quindi più lentamente e questo delle volte il sacchetto di carta l'ho usato qualche volta in alternativa se uno non riesce a seguire il ritmo questi sono quelli che mi sono capitati più frequentemente nelle situazioni acute lavorando anche pronto soccorso quindi sono stati anche episodi di questo io direi la stessa cosa che anche per me è la più efficace talvolta mi capita nelle situazioni di far di far mettere la mano della persona o all'altezza del petto della pancia per far vedere che noi stiamo respirando che stiamo continuando a respirare che comunque il nostro corpo sta continuando a funzionare non stiamo morendo quindi che c'è pancino che si gonfia o il petto che si gonfia ho il tuo consenso grazie la prossima storia ah era così va bene io volevo no io faccio l'ultima perché secondo me invece è importante mi chiedevo nel momento in cui passa qual è il momento in cui è importante il momento in cui finisce quando devo iniziare a a pensare di farmi aiutare e da chi vado questa è una domanda che secondo me potremmo hai ragione potremmo usare come fine sì intanto parlarne nel senso a prescindere dalla scelta del professionista della professionista se ne parla cioè il tema è mi è successo qualche cosa che sia un attacco di panico un momento anche lo allargo un momento anche depressivo importante piuttosto che di tristezza o di ansia generalizzata sentirsi legittimati a chiedere un aiuto poi ci sono tante cose la vergogna c'è una specie di si diceva un tempo stigma sociale che spero adesso nel 2024 sia un pochino sceso però secondo me noi siamo sempre fortunati e vi ricordo il tempo e lo spazio siamo a Milano comunque quindi innanzitutto consapevolizzare il diritto e l'accoglienza l'accettazione di essere stati male perché è inutile dire no non è successo comunque non lo accetto esiste persone affettivamente rilevanti cui chiedere un consiglio le figure professionali beh mi sento di dire che siamo un po' qua ecco però qua tutte e cinque nel senso forse anche il medico intendo dire che il medico di base poi un buon medico di base se posso permettermi consiglierà a sua volta no di rivolgersi a seconda di quello che trova io sono ancora più base del medico di base perché sono un medico di promozione della salute però ve lo spiego un'altra volta meglio ancora sono ancora prima del medico di base poi ognuno ha la propria cultura no mi posso trovare meglio a un approccio inizialmente con lo psichiatra o con lo psicologo o con la psicologa in generale poi nell'esperienza credo anche dei colleghi delle colleghe si lavora talvolta o spesso insieme un approccio cosiddetto integrato però comunque un approccio che veda la persona di che cosa ha bisogno in quel momento grazie io aggiungo che anche da fisioterapista mi capita di consigliare di andare da altri professionisti che anche questo dovrebbe smettere di essere uno stigma sebbene ovviamente un po' il più difficile da accettare spesso soprattutto nella popolazione più adulta ancora c'è un po' di lavoro da fare ce la stiamo mettendo tutta tutti un sistema sanitario che funziona bene è un sistema dove ogni singolo professionista è in grado di creare dare dei consigli e creare rete con i propri colleghi e speriamo che è già così ma speriamo che in futuro lo sia sempre di più quindi storia 2 è il momento fammi un segno con l'occhio se sono nel momento sbagliato secondo me c'è ancora una cosa da chiedere ma vedi che però tu sei un po' perché io quando quando ho parlato seguiamo il copione per piacere quando ho parlato con Angelo lui mi ha detto che ci sono tre cose che fermano particolarmente le persone da chiedere un aiuto al professionista in parte le ha già citate Federico però possiamo fare un focus specifico veloce su ciascuna sono tre sentimenti la vergogna il giudizio e il senso di colpa vi direi a ciascuno uno di questi e un consiglio per superarli se vi va domanda da un milione di dollari che non vi daremo noi nel senso che questa cosa come abbiamo parlato era un po' legato anche alle inchieste che si fanno nelle scuole nel senso che andando nelle scuole con il progetto di Itaca dove è che è spesso capitato e i ragazzi in maniera anonima segnano il motivo per cui tendero a non rivolgersi a uno psichiatra o a uno psicologo insomma a occuparsi di questo aspetto e spesso ho elencato queste situazioni quindi un po' da questo nasce e sull'aspetto del giudizio quindi il timore del giudizio in questo senso quello che cerco di rimandare è che il giudizio è qualcosa che ci arriva dall'esterno che non c'entra con noi stessi e che tendenzialmente i giudizi comportano un comportamento attivano un comportamento cioè sei bravo non è che tu sei bravo è che mi piace quello che tu hai fatto e quindi ti sto dicendo di riprodurre questo comportamento quindi sei debole se vai dallo psichiatra è perché quel comportamento non lo voglio vedere mi fa fatica non so che cosa sia e quindi spesso è legato all'ignoranza alla non conoscenza e quindi non farsi condizionare dei giudizi che non è il nostro ritratto ma è qualche cosa che ci viene messo addosso da altri io sulla vergogna direi che sicuramente si collega anche molto al tema del giudizio però mi verrebbero da dire due cose principali uno è che noi abbiamo la tendenza a pensare che quando ci vergogniamo di qualcosa è perché abbiamo motivo di vergognarcene invece la vergogna di per sé non significa che abbiamo motivo di vergognarci non sia autentica in quanto è presente quindi ricordiamoci anche che a volte possiamo vergognarci ma non per questo facciamo bene a vergognarci come superare la vergogna è un concetto veramente fin troppo ampio se avessi una risposta avrei anche io non so se il Nobel però qualcos'altro in mano di fantastico quindi mi avrebbe da dire che forse dobbiamo imparare anche a vivere con le emozioni negative e quindi a chiedere aiuto anche con la vergogna e infine l'ultima cosa che credo sia un concetto che vogliamo passare tutti qui oggi con questa presenza di professionisti diversi è che ricordiamoci che se io ho mal di stomaco dal gastroenterologo ci vado se io mi rompo una gamba dal fisioterapista piuttosto che ci vado e quindi di provare a pensare allo stesso modo alla salute mentale e quindi non mi vergognerei andare dal cardiologo o andare dal fisioterapista perciò non dovrei vergognarmi nemmeno di andare da un professionista della salute mentale poi le generazioni nuove su questo sono molto più avanti quindi probabilmente le persone che abbiamo davanti già lo sanno però vale la pena sempre ricordarlo invece per quanto riguarda il senso di colpa è complesso nella misura in cui richiede proprio la relazione con l'altro il senso di colpa è antico più antico della vergogna e riguarda quello che un po' se posso giusto dire 30 secondi un concetto un po' più psicoanalitico dell'oggetto l'oggetto inteso come oggetto d'amore oggetto d'affetto che può essere il partner l'amico l'amica i figli o i propri genitori quindi c'è un concetto molto psicoanalitico che è il danneggiamento dell'oggetto ho paura di aver danneggiato l'oggetto con la mia col mio stare male con la mia depressione con i miei continui attacchi di panico col mio continuo modo di stare male la pervasività e anche la paura del contagio ho contagiato l'altra persona guarda adesso è triste perché io sto male allora questo ci fa venire un senso di colpa e talvolta ci impedisce di parlarne la verità è che tanto gli altri lo sanno già perché gli altri significativi che sono insieme a noi sanno come stiamo non abbiamo bisogno di dirglielo allora forse rendergli facile anche la possibilità di aiutarci attraverso le parole che è il nostro metodo più comune di comunicare tra umani potrebbe essere importante c'è una differenza tra il curare e il prendersi cura quindi credo che curare competa davvero ai professionisti e le professioniste della salute mentale ed emotiva aggiungo prendersi cura possono farlo anche le persone a cui noi vogliamo bene e che ci vogliono bene quindi il tema del senso di colpa forse lo superiamo se era un po' anche la vostra domanda pensando che chi è vicino a noi tiene a noi e non è che per forza noi lo sporchiamo lo invadiamo cioè possiamo al contrario farci invece no contaminare dalla loro attenzione verso di noi fantastico aggiungo che anche noi professionisti cerchiamo di prenderci cura oltre che a curare quello potrebbe essere un messaggio utile per tutti nel senso che non so non c'è molto altro da aggiungere credo storia numero due usciamo un po' da questo baratro ci troviamo in una situazione intermedia adesso immaginate un altro vostro amico spero non sia lo stesso di prima perché se no a questo punto diamo i numeri dei professionisti l'amico stacanovista quell'amico che alle 21 ti dice vi raggiungo per l'aperitivo che avete iniziato con gli altri ai 18 ma lui arriva alle 22 e 30 ti dice che è stanco che è sempre stanco non sa mai cosa sta succedendo c'è poca attenzione alla salute mentale del lavoratore diciamo che noi giovani siamo in una fase in cui diciamo finché posso mungermi mi mungo lavoro ogni ora della mia vita finché riesco e appunto si fa poca attenzione alla gestione appunto dello stress per esempio come possiamo gestire lo stress è sempre negativo la parola Federico che oggi ne ha molte cercherò di essere allora un po' più breve stress è un po' come diceva prima la collega amica nel senso un po' come l'ansia l'ansia di per sé non è qualche cosa di negativo lo stress è qualche cosa che biologicamente ci permette di affrontare un pericolo ci permette quella che viene chiamata l'endurance adesso c'è la possibilità di continuare anche la maratona adesso scusate penso alle maratone ma invece nella nostra antichità erano come dire riuscire a scappare nel lungo periodo oppure a cacciare nel lungo periodo a digiuno questo serviva allo stress nella società contemporanea diventa tutto un pochino stravolto quindi l'esempio che faceva Pietro del lavoratore della lavoratrice che performa chiaro è un modello che come dire è difficile non trovare dappertutto sfido anche i colleghi e le colleghe a dire quanto lavoriamo ma anche chi è in cerca di lavoro proponga una parola diversa da disoccupato propongo in cerca di lavoro un grosso lavoro cercare lavoro quindi voglio dire anche quello a livello di stress è qualche cosa di forte lo stress diciamo che è l'amico iperattivato se vi ricordate Super Mario quando diventa superstar dell'attivazione cioè proprio l'amico che è iperattivo va in ipomaniacalità allora la differenziazione tra sentirsi attivi sentirsi freschi anche contenti va bene pensare ripeto una cosa che ho detto prima di stare un po' nel qui e ora forse come dire ma in fondo gli amici mi aspettano per l'aperitivo e questa cosa può anche essere finita domani perché non sto facendo davvero un intervento il povero cardiochirurgo invece lui lo deve fare l'intervento lui starà lì ma gli altri insomma forse l'aperitivo possono prenderselo ma anche la passeggiata da soli che è un buon antidoto allo stress è chiaro che un altro tema è la conciliazione del tempo vita lavoro che consigli possiamo dare giovani lavoratori è un tema molto scottante perché chiaramente non dipende solo da chi lavora ma dalle aziende insomma dai datori di lavoro adesso si parla tanto di questo aspetto ci sono aziende che più pongono attenzione alla salute mentale altre che lo fanno un po' più di facciata diciamo ma poi nella sostanza chiaramente noi viviamo una società il collega ricordava Milano e non possiamo fare finta che non sia così quindi la performatività è qualcosa sulla bocca di tutti però è davvero fondamentale cercare questo famoso buon balance tra vita privata e lavoro come si fa è molto complesso sicuramente perché le richieste che vengono dall'esterno sono sempre pressanti e sempre tante però cercare di ricordarci riprenderci del tempo per ricordarci innanzitutto cosa è importante per noi cioè quindi perché sembra una cosa banale ma io non so se davvero ciascuno di noi si prende del tempo per chiederselo lo fa quando magari succedono degli eventi infausti negativi in cui uno fa delle riflessioni sulla vita però è qualcosa che dovremmo provare a fare non dico nel quotidiano ma di ritagliarci dei momenti poi chiaramente il tempo non c'è una banca dove inserire le ore utilizzarle quindi non lo possiamo mettere da parte però non lo possiamo rallentare però quello che possiamo fare in qualche modo è per esempio cercare di rallentare un po' il nostro tempo interno quindi l'amico di cui parlava anche Federico quindi cercare di provare a non essere sempre in affanno sempre di corsa e di concederci di sprecare del tempo questa parola tremenda che però in realtà è quello che forse tu dicevi anche all'inizio no? cioè di concederci del tempo in cui non facciamo per forza qualcosa di prenderci del tempo in cui riflettiamo su di noi ci chiediamo come stiamo a fine giornata io non vi chiedo di alzare le mani perché secondo me sarebbero forse due se ci è andata bene chi si prende del tempo per chiedersi come è stato durante la giornata per riflettere su come si è sentito su quanto è stressato no? perché non abbiamo tempo quindi cercare di prendersi del tempo ma davvero se volete mettetevelo in agenda mettilo nell'agenda cartacea va benissimo non ce l'ha qua non ce l'ha qua quando arrivi a casa va bene se lo ricorda la mette del tempo dedicato a noi stessi alle cose che ci fanno piacere non necessariamente alla socialità perché appunto a volte diventa anche quello un aspetto performativo e va a peggiorare la situazione quindi cercare di fare quello che possiamo per rallentare un pochino il nostro tempo concentrarci sul qui ed ora goderci le cose e anche il non fare le cose domanda potenzialmente superficiale ma che secondo me è un dubbio che si pongono in tanti per i dipendenti soprattutto il capo lo aggiungiamo su Instagram o no? ho ricevuto storie ambigue è una domanda più difficile di quello che sembra a me di base verrebbe da dire di no non so quali sono poi le conseguenze quando rifiuti il capo su Instagram chiaramente non so poi come reagisce non ho questa fortuna però è proprio un'infiltrazione del lavoro nella vita privata che adesso sembra una domanda banale ma non lo è cioè mi stai chiedendo quanto il lavoro deve entrare nella mia vita privata e la risposta sarebbe non niente perché non è possibile ma il meno possibile sì e quindi se poi vogliamo uscire prima dal lavoro anche se ci hanno chiesto di finire quella roba per andare a farci un aperitivo il capo o gli blocchiamo le storie non so i più giovani sanno come si fa a nasconderle ecco e quindi quello allora possiamo aggiungerle poi però non metterlo negli amici stretti questa è la mia risposta mi è piaciuta? moltissimo puoi mettere anche storie finte io farei un pacchetto di storie anche sto lavorando tantissimo ma proprio sodo e le mando solo a lui tutto bene ciao Pietro tocca a te tocca a me ma manca ah perché stiamo facendo il ping pong delle domande io non la stavo neanche leggendo stavo pensando a whatsapp al paziente che ti scrive alle 22 e 40 dottore domani riusciamo a fare un quarto d'ora dopo e diceva niente ero nel mio mondo scusate allora farò finta di non leggerla esattamente in questo momento quanto è importante dormire per mantenere una buona performance al lavoro e una buona salute mentale? domanda spontanea certo domanda spontanea risposta anche a me comunque ha la sua importanza nel senso che comunque nel tempo prima pensavo di no che non fosse così fondamentale ma è importante nel senso che comunque la tortura una delle torture possibili è non far dormire la gente quindi ci sono degli effetti quindi l'after non ha solo cose positive e quindi è importante da questo punto di vista accettare di regolare andare in bagno quando scappa da pipì mangiare quando hai fame e dormire tendenzialmente quando hai sonno quindi rispettare un po' i tuoi ritmi aiuta rispetto al rispetto di se stessi anche quelli fisiologici poi le conseguenze del non dormire sono variabili però ce ne sono quindi lei ci sta dicendo che dobbiamo ascoltare i nostri bisogni esatto pazzesco ogni giorno un'invenzione adesso risvegliamo qualcuno perché così diamo qualche consiglio di igiene del sonno e faccio anche una passeggiata attivante questo non c'è nello scritto sono molto preoccupato cosa succede e poi la parte in cui uno con il microfono passa nel pubblico si vedono le mie facce preferite quali erano i segni vergogna giudizio sentili sentili annusali lui sta facendo la respirazione quella allora l'ultimo caffè quando lo prendi se bevi il caffè di solito due al giorno dopo pranzo un pomeriggio mai è più bravo di me l'ultimo caffè si prende se si vuole dormire bene come regola generale entro le sedici del pomeriggio perché poi la caffeina non è mi vita abbastanza lunga di otto ore quindi meglio prenderlo prima delle quattro chi fuma? è il pubblico ah meno male siamo nel pubblico più sano della storia l'ultima sigaretta che ora? prima di dormire ok questo ha letto ha letto anche la nicotina è un attivante neuronale quindi come per il caffè sarebbe meglio ma li stai sgridando? si 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 ti ho detto che è improvvisato adesso mi iniziano a allenare però sono tutti bravissimi e l'ultimo chi beve? chi beve? alcol immagino alcol cioè il saltuario l'aperitivo torniamo sulla tutti bevete l'alcol fa dormire bene o male? Giulia tu suoni male speravo che dicesse dipende quanto avevo tenere risposta riguardo io faccio solo domande domande retoriche mancava un dito inquisitorio in questa parte si fa dormire in realtà ti fa addormentare più facilmente però poi le fasi del sonno sono intaccate più beviamo più sono intaccate quindi anche su questo attenzione attenzione come sei plastico e lo sport domanda retorica lo sport fa bene o male? che sport fai? quest'anno cosa fai? dici tutti gli sport degli ultimi cinque anni ora vediamo che ci hai inventato vediamo la terza storia voglio questa fai business mentre giochi a paddle mi aspettavo arrampicata devo dire la verità è un grande lo sapevo lo sapevo ho un sacco di amici che lo fanno li metto in contatto lo sport fa benissimo a regolizzare i ritmi sonnoveglia anche quello è meglio non farlo a ridosso del sonno stavo per dire che si fa dei campionati milanesi contro io ad esempio giocavo a basket e ho smesso quando la mia squadra diventando adulta è iniziato a allenarsi dalle 10 alle 11 e mezza di sera arrivavo a letto alle 2 del mattino pensavo a tutte le domande retoriche che avrei fatto ad Angelo infatti ne ho tantissime va bene l'ultima storia a me dispiace far immaginare l'amico single quindi la farò un po' più avrete un amico single single ma con tante uscite quindi che gli va proprio male questo era l'immaginario va bene la faccio più retorica abbiamo poco tempo l'abbiamo detto non oggi ma in generale nella nostra vita quotidiana abbiamo poco tempo relazionarsi è complicato soprattutto relazionarsi fuori dal nostro mondo quotidiano che è quello appunto familiare e lavorativo e appunto chiudiamo parlando di relazioni come facciamo in questo mondo moderno a relazionarci con diciamo persone nuove come possiamo riuscirci e questo lo chiedo per me aiutatemi aiuto non ho vergogna e giudizio ma aiutatemi app ecco chi ha si può chiedere questa cosa chi usa no forse non si può chiedere c'è il sentimento di vergogna chi ha usato app di dating app shaming abbiamo viste tutte io solo una volta una settimana in Finlandia l'ho usata poi non era no io avanti cosa facciamo perché la domanda ma voi fate dating app shaming è così perché invece no beh in un tempo appunto post moderno assolutamente le dating app sono legittime si usano perché no c'è sempre quel velo un po' di imbarazzo per esempio nel dirsi ci siamo fidanzati come vi siete conosciuti ma al bar amici di amici al matrimonio dating app c'è un momentino no di invece io ho un approccio molto laico su questo intendo che come altri dispositivi no che abbiamo oggi anche la dating app è una opportunità io la vedo come un'opportunità che può essere usata malissimo chiaramente però può essere usata anche bene qua siamo per esempio cioè sia chiaro che se io parlassi a una scuola direi cose molto diverse questo no perché ho un'idea molto diversa rispetto all'uso delle dating app in adolescenza piuttosto che nell'età adulta qua siamo tutti adulti credo che sia un'opportunità ne esistono davvero di tanti tipi non certo perché i creatori delle dating app ci vogliono bene tengono a noi ma perché customizzano Tinder Inge poi per avere un profilo un po' più alto Bumble semi tutela in più al femminile diciamo così e poi Grindr Grindr scusate WAPA eccetera quindi ne abbiamo ne abbiamo tante e anche con una scelta ampia rispetto a quello che forse ci sentiamo o siamo noi l'importante è avere chiaro che come tutto però il mondo dei social ormai noi siamo addomesticati o nativi digitali definiamoci definitevi anzi chi è più giovane chi è più vecchio come vogliamo però il tema della parzialità cioè nel senso ciò che io mostro su una dating app è un pezzo di me chiaramente non mi presento dicendo cose negative o mettendo la foto brutta dove sono venuto col naso in sto modo con i denti inguardabili però penso sia anche un modo che se viene utilizzato bene è anche simpatico rende più facile in un tempo che è un po' più tiranno ecco penso che sia il come che non il cosa quindi non tanto la dating app ma come la uso quanto la uso le domande che io mi porrei per rispondere a tua domanda è totalizzante la dating app cioè sono ancora in grado di conoscere persone una bella ragazza un bel ragazzo lo vedo là ho la scusa per andare ad approcciare è vero fumiamo molto meno quindi non ti chiedo ad accendere con le sigarette elettroniche non si può più però cioè sono in grado di trovare un modo nel senso posso trovare ancora un modo carino anche un po' romantico talvolta di poter approcciare io donna anche verso un uomo un'altra donna quanto mi sento valorizzato o inficiato nel mio valore se non trovo sufficienti match ci sono delle app carine che fanno once a week per cui c'è addirittura o once a day nel senso che puoi fare un match solo una volta al giorno proprio perché anche lì talvolta ci si diventa addicted ossessionati e poi un'ultimissima cosa che è un consiglio un po' moralizzante però se me lo passate era stata fatta una ricerca molto bella negli Stati Uniti su Grindr in particolar modo che è una delle dating app su quando voi scrivete o vi scrivono immaginatevi di essere lì con la persona scrivereste direste proporreste quella roba davanti cioè se foste davanti a un bar davanti alla persona in modo così un po' più creativo e simpatico di utilizzare l'app fantastico grazie non ho capito cioè questo tipo poi farò un viaggio in Finlandia cioè questo ti porta a trovare delle frasi più consone nel momento in cui ti mi desideri la mia era era una piccola provocazione morbida sul fatto di poterci pensare comunque persone nella completezza cioè il tema del social o della app non è tanto che va bene va male mi vergogno incontro per fare sesso incontro per avere la relazione d'amore non è questo e il tema è se sono in un bar chiedo ti posso offrire da bere per esempio in un'app scrivo di solito altre cose allora il punto è vederci come persone intere noi e l'altra persona cioè il tema del rispetto della relazione anche in una chiara in un chiaro approccio di tipo più erotizzato che spesso c'è anche nelle dating app però vedere la persona come nella loro interesse non in un pene e in un seno piuttosto che vorrei farti questo vorrei farti quell'altro perché credo che dal vivo non lo diremmo mai a meno che non siamo già in una fase dove possiamo dire queste cose quindi il tema del rispetto altrui e reciproco credo sia proprio importante in questo senso era assolutamente o che non siate pazienti di Angelo quel punto capita diciamo che abbiamo trovato una persona che ci piace su queste su una dating app e iniziamo una relazione quali sono le difficoltà odierne e i consigli che si può dare a chi invece intraprende un percorso di coppia duraturo chiara che domande semplici in questa parte veramente ma perché non avete letto la prossima spero di doverla fare io bellissimo non vedo l'ora di farla no in realtà è una domanda semplice ma non così semplice nel senso che chiaramente le relazioni sono tra le cose più complesse che noi esseri umani ci troviamo a dover gestire e a dover affrontare quindi in realtà non è per niente semplice sicuramente una relazione richiede del tempo no e non in senso retorico del tempo ma come tutte le cose va coltivata quindi non si può pretendere che da un momento all'altro una relazione funzioni che funzioni per forza che funzioni in modo stereotipato cioè quello che mi trovo spesso ad affrontare con i giovani con il studio è l'idea che la relazione debba essere fatta in un certo modo che è quello che è quello che si vede sui social perché i social su questo danno una forte immagine di come dovrebbe essere una relazione quando in realtà ogni relazione funziona a se stante e va rispettata in quanto funziona in quel modo lì che è diverso da quello degli altri probabilmente ed è bella proprio per questo se no sarebbe facile trovare una persona con cui stare bene fossimo tutti uguali volessimo tutti le stesse cose fondamentalmente il tema del rispetto secondo me è fondamentale all'interno di una relazione dell'altro ma di se stessi in primis perché a volte ce lo dimentichiamo no? tendiamo a pensare all'altro e non a noi stessi o viceversa ricordandoci sempre che c'è una frase che mi disse la mia prima terapeuta quindi un sacco di tempo fa cioè l'altro è il tuo limite c'è sempre questo tema che non puoi controllare governare decidere per l'altro perché l'altro comunque è a se stante un'altra persona rispetto alla salute mentale chiaramente all'interno di una coppia è molto importante secondo me la comunicazione su questo tema cercare quindi di essere il più possibile sinceri chiaramente giunti a un certo momento della relazione in cui ci sentiamo di voler condividere queste tematiche perché non è obbligatorio soprattutto all'inizio e soprattutto cercare di avere in mente che chi non ha dei problemi legati alla salute mentale cioè chi non soffre d'ansia non sa cos'è fa fatica a riconoscerla e che quindi non dobbiamo avere l'aspettativa che l'altro ci legga nella mente ma dobbiamo il più possibile cercare vedo qualcuno che ride ma infatti perché proprio così molto spesso mi trovo a parlare con dei ragazzi che nel mente che il partner dovrebbe saperlo dovrebbe capirlo e no e quindi è molto importante cercare di essere comunicativi rispetto al modo in cui ci sentiamo rispetto ai problemi che abbiamo dando all'altro l'opportunità di comprendere e magari dicendogli anche cosa abbiamo bisogno per farci aiutare soprattutto se soffriamo di qualche disturbo in particolare ecco quindi le due metà di mela che si trovano e si uniscono diciamo che è un po' ecco va coltivata la mela forse questa me l'ha suseata adesso io ho pensato che mentre dicevi che fortunati cioè se fossimo tutti uguali sarebbe veramente il mondo più noioso soprattutto su quali a te credi? e sto pensando anche che eh? tutti uguali lo dicevo così me la prendo e sto dicendo una cosa profonda ma sai che io ti tarpo le ali la nostra relazione è perché in realtà siamo in un mondo dove secondo me invece c'è una grossa insidia in una massificazione perché è molto più utile avere una popolazione tutta uguale e fini di nutrire il sistema di vendita soprattutto e consumo e quindi viva la diversità mia da Pietro sicuramente e cerchiamo appunto di tenere presente questa cosa siamo fortunati perché ci salva invece un altro sistema che è quello evoluzionistico per il quale secondo me qualsiasi forza esterna comunque non ci renderà mai uguali a meno che non siamo arrivati al termine hai finito ho finito questa mia parintesa ho una domanda molto leggera da fare al nostro psichiatra che leggo abbiamo occasione di avere uno psichiatra con noi stasera e chiedere a uno psichiatra cos'è l'amore va bene detto ciò no vabbè il resto secondo me è più semplice cambiano i neurotrasmettitori tra rapporto sessuale e rapporto sentimentale la prima parte vedi tu cosa dire sulla prima parte ieri parlavo con un ragazzo con cui faccio colloqui e gli ho chiesto che cos'era l'amore perché dovevo rispondere a questa domanda lui mi ha detto che era una pressione sul dimostrare di essere maschio tra l'altro quindi come dire sull'aspetto che in effetti spesso c'è nelle relazioni della pressione del voler essere all'altezza di voler funzionare in maniera ideale e spesso questo crea difficoltà poi nell'incontro con l'altro in realtà con il fatto di non stare attaccato al reale a quello che siamo perché è quello che ci rende amabili e che ci permette di amare io so cos'è amare ma rendo difficile sapere cos'è l'amore tanto meno come psichiatra non lo so quindi c'è il rapporto l'amore poi ce ne sono tanti c'è l'amore verso la propria partner o il proprio partner i figli e anche verso i pazienti che è una forma di amore diversa ma c'è da queste e per quanto riguarda quindi questo sulla risposta prima a me è piaciuta tantissimo in realtà vorrei avere tre ore per sentire la risposta di tutti i presenti perché la trovo molto affascinante grazie no 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 non era una proposta non era una proposta dopo dopo quando chiudiamo le telecomuniche chiudiamo anche le porte e state qua a rispondere a me e stiamo parlando solo sull'amore e per quanto riguarda i neurotransmettitori sono pure andato a ricercarmeli perché non sono un ricercatore sono un clinico e di fatto l'anno scorso avevo fatto tutto uno studio sulle sostanze che molti agiscono sul sistema dopaminergico che è quello che rinforza un comportamento evoluzionisticamente fare sesso è piacevole perché ha a che fare con la procreazione e quindi tendenzialmente non avevano in mente che ci fossero i contraccettivi e quindi la funzione è quello cioè preservare qualche cosa che salvaguarda la specie e quindi rinforza un comportamento e quindi anche nell'aspetto sessuale c'è un rialzo di dopamina che ha questa funzione quindi di sentire che è una cosa che ci piace e quindi da riprodurre e nel rapporto sentimentale c'è anche questo aspetto non solo questo aspetto ma c'è anche questo aspetto dopaminergico le sostanze si infilano in queste aree cerebrali per cui fare sesso diventa meno rilevante in qualche misura o comunque basta utilizzare delle sostanze e non necessariamente fare il resto non che sia un consiglio è un rischio per quanto riguarda gli altri neurotrasmettitori la serotonina pare che diminuisca io non so come avevano fatto queste cose come hanno fatto capire che uno è innamorato e gli abbiano controllato la serotonina però pare che diminuisca la serotonina che è tra l'altro un neurotrasmettitore ridotto in alcune forme d'ansia compreso la sintomatologia ossessiva e quindi trasformano qualche cosa che è fisiologico pensare all'amato o all'amata come un sintomo ossessivo ma comunque se accompagna un po' questo aspetto aumentano l'endorfine è un neurotrasmettitore che è molto legato invece alle relazioni diciamo più a lunga durata è l'ossitocina che ha a che fare con la relazione di fiducia quindi che si attiva nel rapporto con i figli con madre e bambino però in generale ha a che fare con le relazioni di attaccamento e quindi non tanto quelle solo praticamente sessuali anche relazioni più amore nel senso più ampio credo di aver risposto ci ho provato perfetto oserei dire ci ha fatto venire voglia di avere una relazione non lo so ma intanto grazie direi che le tre storie le abbiamo viste adesso faccio io quella cosa che mi alzo e nessuno se lo aspettava 5 minuti di p si può abbiamo ancora 5 minuti poi 3 ore a cena vi chiedo no no non a cena adesso quando non abbiamo le prove spegniamo le luci spegniamo le luci no volevo dire che telecamera allora domande dal pubblico generiche va bene abbiamo 3 professionisti non le fate a Jay perché non ha risposto io ho detto come 3 professionisti io sono alzato se no erano 4 ah non le fate a lui va bene è gratis giuro non ci sono parcelle chi è che chi è che ha una domanda per i professionisti dai dai non mi fate fare questa cosa che sto qua in piedi da solo devi fare come me devi chiederla diretto ah che cosa è così fammi una domanda sì dai dai ragazzi aiutatemi che qua c'è gente che conosco faccio così una domanda da fare a un professionista della salute un vostro dubbio mamma mia ma questi professionisti dovrebbero farsi pagare il quintuplo quanto meno niente rimaniamo in questa cosa di imbarazzo grazie a tutti veramente questo ringraziamento personale Jay di uno più zero oh guarda qua che bello cosa ne pensate del progetto più pare meno pare più pari meno pari più pari meno pari sbagliato io sinceramente non so quando andare dallo psicologo quando andare dallo psicologo psicoterapeuta e quando dallo psichiatra chi risponde è interessante lo psicologo è appunto lavorato in psicologia e in teoria non ha una competenza nella cura nel senso che psicoterapeuta vuol dire che curi lo psicologo in realtà è una formazione di base però puoi fare delle consulenze ma non fare un percorso di cure oppure puoi essere lo psicologo del lavoro puoi formarti in diversi ambiti nell'ambito della cura serve uno psicoterapeuta quindi se uno ha una condizione di malessere il professionista è lo psicoterapeuta rispetto allo psicologo rispetto allo psichiatra dipende nel senso che in realtà non c'è cioè come la diceria che dallo psichiatra ci va dal pazzo e quelli meno gravi dallo psicologo non corrisponde nel senso che comunque è una modalità che forse ha più che fare con il tipo di avvicinamento che uno vuole fare rispetto a una questione nel senso che se uno va da un medico perché di fatto lo psichiatra è un medico fa una valutazione diagnostica e poi può valutare che serve un percorso di tipo psicoterapico che alcuni medici sono in grado di fare oppure mandare da uno psicoterapeuta la stessa cosa se uno va da uno psicoterapeuta e poi il collega che fa questa valutazione ritiene ci sia necessità di un approccio anche farmacologico che non può fornire invia da un altro quindi la parte iniziale non è così fondamentale nel senso che comunque si lavora insieme spesso chi fa questa professione ha dei contatti quindi non è così rilevante toglierei lo schema anche perché in molte parti io lavoro in un ambulatorio dove ci sono ragazzi anche molto sofferenti che fanno solo psicoterapia nel senso che delle volte l'approccio psicoterapico in molte condizioni è la terapia di erezione disturbo a borde di personalità piuttosto che altre situazioni i farmaci servono relativamente poco e ci sono altre condizioni come il disturbo di panico dove i farmaci funzionano bene quindi non direi che è legato alla gravità esiste allora sicuramente in situazioni più complesse è fondamentale un lavoro di equip servizio in cui lavoro ci sono educatori psicoterapeuti l'assistente sociale il medico quindi diverse figure proprio per cercare di rispondere a situazioni più complesse di sofferenza situazioni meno complesse può essere sufficiente un lavoro fra due professionisti delle volte basta però in molte situazioni serve una collaborazione quindi è importante per i professionisti stessi avere una rete che spesso viene fatta cioè prima quando ci siamo parlati comunque ciascuno di noi ha conoscenze appunto per permettere anche di avere delle risposte in base alla persona quindi uno può anche avere l'impressione che una persona non funziona con me e avere in mente che un qualcun altro funzioni oppure serve un altro tipo di approccio non è così fondamentale quindi la scelta se è psicoterapeuta o psichiatra dipende dipende dal disturbo conclamato se ad esempio disturbi di tipo psicotico alcuni disturbi o disturbo bipolare l'aspetto farmacologico può essere molto importante quindi può essere molto importante la figura dello psichiatra che monitora questo però lo psicoterapeuta spesso può aiutare ad evitare altre crisi a imparare a gestire lo stress e quindi evitare che si possano ricapitare degli altri episodi quindi direi che è veramente importante confrontarsi con un professionista e spesso dal professionista se quello non è in grado di rispondere in maniera da solo a quella domanda sicuramente gli fornirà un aiuto per poi andare da un altro altrettanto valido se io confido in questo nel senso che comunque lavoriamo per questo va bene speriamo di avervi dato dei consigli utili usciate di qua sapendo un pochettino di più cosa fare con l'amico ansioso l'amico stacanovista e l'amico sulle dating app speriamo che vi siate anche un po' divertiti con noi perché sì ah c'è un'ultima domanda è troppo tardi basta va volevo chiedere una domanda riguardo invece all'amico che magari non si ama o non si vuole bene come fai a magari aiutarlo a trovare dentro di sé quello che ha di primordiale che lo fa stare bene invece di solito fa le cose per far stare bene gli altri o perché di solito è bravo a fare quelle cose non so se a parte che se gli sei amico già come dire trasmetti amore nel senso che da questo punto di vista il fatto è che questo amico abbia un amico già è un segnale da questo punto di vista quindi la tua presenza già gli fa sentire o potrebbe aiutarlo rispetto a questa dimensione poi se la tematica è la tematica narcisistica cioè del valgo per quello che faccio è importante passargli il fatto che oltre ad aiutare gli altri c'è un amico molto in difficoltà che è lui e quindi di amare se stesso e utilizzare le stesse strategie che utilizza con gli altri con sé provarci poi dopodiché è un ambito spesso complesso con delle sofferenze anche molto forti e che spesso poi necessita di un percorso quindi non è molto semplice e quindi anche come amico tieni conto dei limiti che hanno i professionisti e hanno anche gli amici talvolta si arriva a dire che esiste in gergo tecnico come un falso sé dove quindi la persona questo è un termine proprio psicoanalitico un falso sé inteso come una persona che effettivamente non sta mostrando né agli altri ma soprattutto a se stesso quello che ha la sua entità quello che è il suo desiderio quindi vive in funzione del dover rendere conto ad altri che sia come prima quando parlavamo dello stress della performance ma anche del piacere agli altri può darsi poi nella domanda che tu hai posto ci sia poi uno scivolamento anche depressivo perché poi arriva a un certo punto l'isolamento un'insoddisfazione rispetto alla propria vita se intercettato diciamo in tempi anche precoci nella giovane adultità sicuramente come diceva il collega un aiuto professionale può essere utile ma anche poter sempre con gentilezza io penso sempre che la cornice veicola tantissimo il contenuto quindi così un po' le frasi da bar a cui siamo magari abituati nel dare di gomito forse vale la pena di smetterlo un po' nei nostri tempi quindi con gentilezza poter far presente che tu hai notato questa cosa che tu hai notato che lui ha proprio bisogno di rendere di rendere felice la vita degli altri insomma chiedere anche quali sono davvero dei tuoi interessi o magari chiedere anche ma tu stasera hai detto che ti faceva piacere andare al bullying ma a te cosa sarebbe piaciuto perché magari la prossima volta facciamo questa cosa insieme con te quindi valorizzare perché spesso c'è un nucleo narcisistico molto fragile no? per cui la persona sente di non valere e vale la pena appunto di anche far vedere che quello che dice lui uso spesso le stesse parole quindi che è legittimo è legittimo anche quello che vuole lui se poi è noioso pazienza però se è un amico accettiamo anche l'aspetto della noiosità apriamo le candidature anche per la fidanzata hai detto prima quindi se c'è qualche candidata dal pubblico ah niente allora nulla niente mi dispiace ragazze no io volevo aggiungere i colleghi sono stati super esaustivi volevo aggiungere proprio in senso generale secondo me il fatto anche Federico di esprimere una preoccupazione per qualcuno a volte è veramente un grandissimo atto di prendersi cura dell'altro perché c'è chi non è abituato a sentire che qualcuno si preoccupa per lui e quindi a volte già questo è un grandissimo aiuto ricordandoci sempre che poi la responsabilità in questo caso non è la tua e non possiamo salvare gli altri chiaramente però nell'esprimere con sincerità chiaramente delicatezza una preoccupazione possiamo già far aprire gli occhi all'altro su quello che sta succedendo perché se qualcuno si è preoccupato e ha notato qualcosa di me che non sto bene se se ne accorgono gli altri allora è già più evidente no perché magari uno non è abituato a chiederselo come sta come dicevamo anche prima quindi secondo me questo vale nel caso che portavi tu ma in generale assolutamente ti ringrazio io della domanda perché è stata molto più utile della mia chiusura sicuramente siamo giunti al termine vi chiedo a questo punto solo un grande applauso per i nostri ospiti che è stato veramente grazie mille bellissimo e vi lasciamo come richiesto con questo QR code da inquadrare c'è il mio profilo tinder con delle domande per targhettizzarvi e chiedere come è andata la serata volete aggiungere qualcosa siamo posti allora grazie a tutti 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.